le perle nere dove le metto assieme alle altre perle ah già è vero sì sì i corni dove te li metto acqua nei tesori dove me li metti non è bello da dire riesco a portarlo sì a 68 perle nere abbiamo cavolo allora repellente repellente vai prendiamocelo ok ma è se la portassimo qua in base nella gabbia ti dici che si può no non si può se è in gabbia mi sembra di aver letto anch'io che se si in gabbia non non lo so dipende se inizia ad attaccare le strutture non funziona allora no proviamo se poi non ci riusciamo la portiamo qua in gabbia dai io ho i sette corni ok aspetta che prendo la mia roba mettiamo la tuta mimetica che dici po po la tuta mimetica è meglio ci potrebbe aiutare vediamo un pochettino ne abbiamo pochi di quelle mimetiche solo non ne abbiamo proprio facciamola no vabbè non ce lo voglio ne ho presi tre pezzi io prendi le tecche io ti allora ne abbiamo un totale di 17 orne sì con il timing che c'è qua ce ne tramiamo due a 150 o sbaglio a un per ne chiede 15 sempre ammesso che il timing non in qualche modo non si interrompa se non siamo fottuti ok vamos missione mantis è più o meno la stessa cosa guarda qui il carnino alfa vediamo che livello è 50 ma si dai aspetta fammi appoggiare io voglio lo scontro fisico vie che ti scontro tutto vediamo quanto ci fa di danno 124 beh non è male non è male dai appoggiati ok andato mi sono maniato tutto io non mi hai lasciato neanche un bocconcino no mi ha lasciato il trofeo però ti serve carne no no ne ho 2000 qualcosa più anche per la montone se vuoi però mi ha fatto fare cinque livelli ma dai perché a me nemmeno uno ma scusa deciso te tu l'ho sceso io e l'hai ucciso tu per amare di livello ma poi funziona proprio l'italiana qua tipo uno lavora e l'altro si prende tu hai preso la carne e io ho preso i livelli allora vediamo un pochettino mantiti di mantiti un bel cento femmine dobbiamo prenderle però eh non sbagliamoci a prendere dei maschi che a noi piacciono le femmine adesso vuoi vedere che ci sbuccherà il verme sicuro sicuro tu dove sei c'era la gabbia del giga ok io sono andato dritto cioè com'è che non ci sono più mantiti qua pieno di scorpioni di vermi i serpenti mantiti nemmeno una no come sta storia provate che livello adesso guardo 50 e 135 femmine 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 no maschio è ma porcaccia è 135 acqua 2 vediamo vediamo 60 maschio e questo qua femmina è 85 mannaccia qua ce ne sono tre o che stanno spawnando ma tutti i livelli bassi oltre a prosso tutta da sub e spada spada di che livello stalo dico maestro e buono cioè non credo che abbiamo mai trovato una migliore maestro quella gialla si buono e ma sai io cerco l'ascendente 15 40 130 a quello che visto tu questo mannaccia stanno fa un'orgia quando si capisce state ferme no il verme guarda guarda il verme che mi attacca ma porcaccia vedi sono vicino al castello vieni vieni questo è potente adesso ti dico quanta vita le altre mi sembra 1700 ho detto mi sembra il 27 lui 20.000 urco leggermente potente sono proprio dietro il castello io arrivando ma non ce la fai con la vederina le ammazzo sempre con la vederna poi questa qua è pure potente le ammazzo anche con quella del veleno se riesci a beccare qua ho sprecato un colpo no scorpione togliti se riesci allontanarlo e sparare col colpo elettrico il veleno lui non ti fa danno e tu si ma quella gornica non posso dare la carne di non solo ah non te lo so dire c'è tieniti un po più distante già che ci sei silas ma mannaccia ho paura io di quale ok un amante di occhio vedi che livello è non usciderla 45 ok quella che aspetta guardo io eh non riesco a vedere eh no 25 magnatela il corno che fine ha fatto l'ho già preso io il corno prova a guardare se l'ha preso no ne ho 17 come prima chi l'ha preso allora ah nella viverna ok ok guarda questa che ho dietro 15 magnatela o vuoi creata mi amo ah ok ormai ce ne possiamo fare un'alta e una bassa se non sbagliamo quell'alta gamma 3 va così si vede un po' meglio se no poi si lamentano allora oh 2 là uh uh 3 90 maschio 140 maschio 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 non era male c'è il 140 dico non era male no aspetta uccidiamole va così respawno aspetta sulla destra altre due che stanno combattendo contro i le avvolto immagino c'è una femmina che a livello allora 95 maschio femmina 60 uccidi uccidi t'avevo detto che sto giro spawnava il verme quando non devo trovarlo quando non mi serve spawna tacci sue e quasi sempre con le viverne 90 femmina è la più alta che abbiamo trovato sì altre da 60 per me la sono maniata oh drop rosso annaccia sto giro le hai trovati te oh ne ho trovate altre due guardiamo femmina al 100 già meglio e femmina almeno un altro maschio al 20 eh se non troviamo nient'altro ci facciamo lei adesso io la grabbo così ce l'abbiamo poi cerco qua c'è no scusate le stavo per fulminare 145 femmina oh sì vai vai prendila benissimo femmina 25 poi maschio 25 la tengo questa ma no non lo so secondo me no il 145 femmina è buono ce la utilizziamo anche per provarla per vedere un po' come va io ammazzo gli altri sperando che non mi attacchi aspetta non so dove sei però sono proprio in fondo vicino al mare dopo il drop verde al ceno più a sinistra molto a sinistra sono proprio al centro del deserto no mi sta attaccando è lei aspetta se aspetti la grabbo ah la vuoi grabbare eh intanto è coincidere le altre oddio no 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 sta combattendo contro tre cose no come facciamo grabo la grabbo ah la grabbo sì miglior cosa no ha grabbato il serpente vabbè uno e meno dai via serpente la porto dove c'è la la gabbia per il giga ok uh poverina tutta ferita sta morendo ti abbiamo salvato la vita ci troviamo lì la gabbia no è qua 140 è qua 145 è qua dove ancora combattendo ma dove non c'era nessun'altra dove c'è lo scheletro dove sei no quella è un'altra ancora allora io non sono lì no l'hanno ucciso a cavolaccio gli avvoltoi di merda ma io non sono lì eh adesso mi fai venire dubbi aspetta che la riposo hanno ucciso gli avvoltoi no no è giusto è giusto 145 questa avevo trovato un'altra cazzo ok eh ma io sono arrivato primo ah ah sì questa qua però è messa male con la vita eh due avvoltoi e che mi stanno ancora seguendo gli avvoltoi e la vogliono mangiare a tutti i costi oh tu sei dove c'è lo scheletro aspetta che ti raggiungo abbiamo salvato la vita mantidina eh adesso si fa a domesticare istantaneamente eh magari 60 maschio magari ti ammazza 85 femmina spero che non sia arrabbiata ma io direi di portarla vicino alla base vicino alla base ma sì ci sono un sacco di animali lì eh dobbiamo trovare la zona tranquilla perché se lei attacca perde il timing se si mette a combattere quindi ci vorrebbe una zona veramente tranquilla dove non ce ne sono andiamo sulle montagne eh là dove facciamo ferro lì non c'è mai niente andiamo lì andiamo lì dai bella femminuccia 145 oh sì ehm Silas sai dove sono? no vicino al fiume vieni vicino al fiume ci sei vicino al fiume sì ecco vedi che c'è quel spuntone che sembra una cappella di un pisello scusami ma ah sì ecco sali su in verticale verso la montagna noi siamo lì non mi attacca nemmeno va che brava ecco ti ti vedo siamo alla tua destra ok visto faccio che noi due davanti eh maschio maschio al 130 e femmina al 50 poi dopo dopo che ci siamo temati questa sì con i corni che ci avanzano ci tamiamo magari livelli bassissimi tipo il 15 eh sì poi li troveremo tutti al 150 sì a vedere tutti maschi guarda io direi mettiamoci eh qua dove vuoi che ci mettiamo se no eh sì sperando che non si lanci di sotto allora tu e la vado a grabbare io se no ah beh non lo so se la grabbiamo però cosa succede allora mi spruzzo spruzziamoci in passivo eh sì è vero mettiamolo in passivo spruzziamoci di sta schifezza il tastino E devo schiacciare vero io mi accovaccio guarda mi accovaccio pure in teoria da dietro vedi come sta con la vita quanta ne ha 451 su adesso non la vedo più addio fermati ok oddio sta già a metà Silas con un corno al 50% madonna ma quanto sta il timing di sto server non è al 6 è impossibile può vedere è impossibile due corni un 145 io le sto attaccato al culo così dai 6 e sono attaccato alla no dico un 6 per 6 un per 6 si con un corno 49.7 ah con due due corni c'è poi giusto giusto e forse due corni non bastano no voglio un 3 46.7 49 49.7 è un po' meno della metà eh sì c'è quello 0.7% eh ma quando faccio ieri a domesticamenti l'ultimo boccone arriva al 99.8 99.9 certe volte tacci loro si devono mettere pure i decimali fra quante che avrà fame questa ma questo gioco non è abbastanza complicato deve essere ancora più complicato è bastardo sto gioco ma questo non c'ha fame bisogna aspettare che scenda mannaccia insomma ci possiamo domesticare tutte le cavallette che vogliamo eh le mantide che vogliamo così facciamo l'esercito vai ci tamiamo un super golem vuoi che vada a cercarne un'altra visto che se vuoi tanto sta tranquilla vedo dove vai stai ferma di qua ok 99.4 mannaccia vabbè dai facciamoci altri 5 minuti così sì a parte che se le prendiamo di livello basso femmine solo per le uova va bene qualunque cioè ci basta un corno è un timing istantaneo all'85 ti va bene è un po' alta se è solo per fare le uova è alta se poi non lo so ne vogliamo fare un'altra per combattere ma intanto non le usi eh non credo solo da uova e basta questa era solo per sfizio vediamo un po' il danno che riusciamo a fargli fare è perché queste qua poi non le puoi accoppiare e quindi sono così e basta nooo 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 aiuto l'ho toccata per sbaglio nooo fuck ah lasciami lasciami in pace aiuto gli hai tirato un pugno ed è uscito a zero la giusta nooo gli ho toccato il culetto mamma come per malosa ma gli ho come sei per malosa aiuto c'era un'alta a 145 se poi aiuto che sfiga gli mancava più niente ormai non ha perso il timing però perché non ha combattuto meno male allora accovacciamoci pian pianino ci riavviciniamo mi scusi si prenda il mio corno mantide ok no dai magnate sull'ultimo pezzo state ferma un secondo ok è nostra bene ok una pianta ma dove vai sono qua io fermati ok ne hai trovata qualcuna Silas eh uno al 20 ti va bene buono femmina lasciami controllare e do un controllantino sotto la gamba bravo bravo eh ma uno con la tua esperienza non hai anche bisogno di guardare sotto le gambe eh eh ma sai ormai poi se non sbaglio abbiamo anche la sella ascendente o quella rara allora andiamo a farci guarda se volete vi do un progetto per la sella ascendente eh ma chiede un botto di cose quante cose chiede l'ascendente eh non lo so non sono in casa me ne torno di solito chiede un botto se trovassi la mia viverna magari che si volata chissà tu la lasci un po' più avanti eh boh no dov'era prima più o meno parlo eh ti avevo detto io qua dove stai? dove va? ah sei laggiù cascappa cascappa eh perché vuole ritornare nel suo ambiente ah buono vada più avanti ok qua vedi ecco qui davanti c'è questa conca magari si incastra lì dentro in mezzo alle pietre mettila lì dentro se si ferma un secondo gli diamo il corno no aiuto ti ha visto aiuto l'ho toccata mi segue? si ah che lì davanti è ancora la roccia ah ok ecco l'ecco adesso gli passa adesso gli passa vedi che si incastra in mezzo a ste piede dimmi quando gli è passata sta correndo ancora non so se sta andando verso la livella buono è passata ok oh l'ha visto ce la fai se no ti prendo no no aspetta la glicciamo qua in mezzo vieni questo posto è speciale a posto no ma ti attacco ancora eh ma non riesci a raggiungermi no 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 mi sembra tranquilla adesso però non lo so sicuro? mi fido? esco? no ma guarda no mi attacco a me no ah è salita sulla pietra per saltare su di me ma pensate no non t'ho preso no no ma tanto è lenta è lenta vai mi nascondo in mezzo le pietre oh non molla eh non molla no 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 non ti molla ancora lì era piattissima è come una donna in pratica è uguale oh madonna che salto ha fatto e mi ha preso da sopra aiuto si vedevi e avrei fatto qualcosa no ma le donne anche senza aiuto grabbami grabbami sono senza stamina ormai ok ok rimaniamo qua sopra se no lei ci segue ok tacci sue come è il giga che vi ho fatto trovare e boh era qual era ah la femmina era eh sì quella era il 140 eh ci ha dato giù ci ha dato giù abbiamo fatto i piccolini dici che li è passata non recupero stamina qua su io mettimi nell'angolino va no va a staccare la viverna dimmi te aspetta aspetta vediamo che fa no sta tornando a casa oh va sulla mia mantide no facciami la mantidina sei bastarda sei la uccide no uccidere no però eh prendi la nostra mantide va mettila al sicuro aspettiamo che questa lì oh questa qua che deve essere la più semplice no inutile che mi guardi così incazzata vada vada guarda vada vada la viverna guarda ah no le viverna non le attacca ah ma boh meno male non mi attacchi sulla viverna no si è calmato dici eh non lo so io vedo che cammina piano andiamo ok andiamo strisciarmi ah mi rimedio no 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 t'ha visto t'ha visto ok ha mollato sì ok ha mollato proviamoci hai messo il repellente sì adesso lo metto anche la alla la viverna va allora no non mi hai visto no ok ci siamo ci siamo to magnate sto corno ok ce l'abbiamo fatta già fatta yes sì un corno solo è stato sufficiente è livello piccolo cioè ci avanzano ancora 14 corni eh non per dire allora vediamo un po' se abbiamo una sella ma ne abbiamo guarda due maestro no una maestro una comune e l'altra non comune mettiamo quella non comune e la maestro vai ah gli si può mettere anche il costume a questa e poi vabbè ci sono le mani ok mette le orecchie da conigli no 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 che orecchie da conigli che siamo gay mettiamo i coniglietti vabbè che sono femminucce però montategli le bazzire al cobalero finirà prima o poi sto anti bug c'ho sta nuvola verde che mi gira c'è un alfa donna uno zeta più che un alfa le proviamo vediamo un pochettino come vanno ah picconi picconi mettiamoli picconi spade fucili le scope ci puliscono pure la base ma se gli metto la motosega dici che la usa oh prova non penso si possa falcetto spade no non credo la motosega le armi le armi no nell'accenderla rompela è buono non le trovo più Silas non lo so boh allora mettiamoli le spade così è ninja guardate quanto è ninja così mannaccia questo sguardo cattivo poi possiamo metterci il falcetto guarda anche il falcetto così è campagnola abbiamo la mantide campagnola nella serie monster tech avevo trovato una super spada che mi aveva droppato non so quale quale mod forse della extinction core faceva un botto di danno messo alla mantide che dava due colpi così insieme faceva una cosa devastante madoncina era quella era la spada che droppava i boss umani era una figata allora è rimasta qui il talecoleo proprio non ne frega nessuno no l'ha preso ah sei tu l'ha preso cosa ma l'ho lasciato qua e sta sanguinando sta sta sanguinando boh vediamo vediamo allora col tasto bar spazzatrice non fa niente c nemmeno ctrl nemmeno quindi solamente i tasti del mouse andiamo a mangiarci quelle tigri aspetta che metto le spade ah che io ho la spada spada normale però io c'ho la motosega la motosega voglio la motosega eh no non si può la motosega è perché nell'accenderla con le zampe rompe la cordicina è vale io sono solo a livello 20 non vorrei 223 facciamo non è affatto male tu 195 quanto facevi tu scusa fai tu vai ammazza questo 195 porca puttana eh tantino poi se fai l'attacco così fai molto più danno a 307 io così guarda 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 è un livello 90 è peggio di un giga no peggio di un giga no però io gli do un po' di vigore arriviamo a mille va col vigore se gli dai un piccone ascendente ti fa un bottino adesso lo proviamo con la vita non sale su di niente ho anche una tigra dietro ops scuso beccato te è più dell'anchilo eh proviamo non lo so è che non può trasportare molto cioè è già piena è già così è piena gli do uno in peso eh prende 90 più o meno danni vai giù di danni vai giù di danni è un animale da combattimento sì più che altro sì vediamo un po' quanto raccoglie spam badonna 200 di selci in due colpi non so l'anchilo quanto raccoglie adesso onestamente è il mio che è al 150 ne raccoglie più o meno provala silas provala no ce l'ho che ho qua metto quel piccolo prova prova quella che livello alto ah ma tu c'hai la super spada ecco perché face così tanto danno andiamo ad ammazzare tutti andiamo ad ammazzare tutti vai quindi trovare l'ascendente qua fai danno eh sì madoncina beh c'è tanto un altro 150 ce lo possiamo tamare maschio ci andiamo eh il dio di cura è terribile quando si chiude eh e poi era 140 morellato mi spiagge ti devi sacrificare facciamo così guarda oh no 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 finito la stamina devo buttare via la carne perché se no ho peso troppo cavolo buttiamo via tutto va cosa cosa gli dai qua eh attacco eh sì sì io questo gli ho dato vigore se no vai uno due tasto destro due e tre a questo questo corre mori non puoi sfuggirci ok l'attacco delle mantidi di l'attacco delle mantidi c'è un bug dove le depositiamo le mantidi le mantis mannaggia che confondo sempre sotto sotto stai legando non lo sapremo mai sotto sotto la dove c'è di di leone qua la mola qua ah boh mi raccomando fate tanti ovetti che ci servono così ci possiamo tamare il golem qua c'è la tua roba qua dentro il golem vuole il keyboard di mantidi eh sì se no ci stai tipo 40 ore eh